Da oggi iniziano i primi confronti, anche informali, in vista del dibattito sul rendiconto 2021. Lo strumento finanziario fondamentale, anzitutto per i correttivi richiesti dalla Corte dei Conti, è stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta. L'intero civico consesso, compreso il presidente Salvatore Sammito, attende di poter avere in mano le carte per visionare i numeri dell'ente. Di certo il disavanzo è consistente, per circa 96 milioni di euro, a fronte di un avanzo da 32 milioni di euro. La tempestà finanziaria, spesso richiamata al sindaco Lucio Greco, ha messo in ambasce l'intera organizzazione amministrativa dell'ente. L'avvocato ha ribadito che si tratta dell'eredità di precedenti amministrazioni. Questa mattina era prevista una conferenza dei capigruppo consigliari per affrontare le rivendicazioni poste dei dipendenti comunali che lamentano ritardi notevoli nel pagamento delle indennità. Il segretario generale, Carolina Ferro, in aula consigliare, sempre la scorsa settimana, ha comunque sottolineato che il tema è da collegare alla bocciatura dei sistemi dei controlli interni formalizzata dalla Corte dei Conti. Uno sblocco in tempi rapidi non pare così praticabile, i sindacati non escludono lo sciopero. Probabilmente anche la riunione di oggi è servita ai capigruppo consigliari, al presidente Sammito, in presenza di esponenti dell'amministrazione comunale, per chiedere prime delucidazioni sul rendiconto. C'è ancora la necessità del parere dei revisori prima che possa avviarsi verso il Consiglio Comunale. La settimana in corso quindi potrebbe riservare ulteriori sviluppi e il voto favorevole dell'assise civica allo strumento finanziario comunque non è così scontato, tanti vogliono approfondire con attenzione. E prossima intanto la scadenza per la trasmissione dei correttivi richiesti dalla Corte dei Conti, di fatto dovrebbe trattarsi di un vero e proprio piano di riequilibrio, con dati già previsti nel rendiconto 2021. Grazie. Grazie.